Cartoline dall'Italia, una nazione unita dall'arte. Ne è convinto Rosario Bianco, editore della Roggiosi, che ha dato alle stampi un volumetto celebrativo che si compone di una raccolta di foto che ritraggono i principali monumenti italiani. Una sorta di filo conduttore che unisce il paese attraverso le bellezze architettoniche e le testimonianze artistiche di cui è dominato il nostro territorio, sul quale insiste oltre il 70% del patrimonio artistico nazionale. Il volume, intitolato appunto Uniti dall'arte, la cui veste grafica è stata curata da Attilio Sommella, è stato presentato presso le sale dello storico Caffè Gambrinus. Il lavoro, realizzato insieme al giornalista Giovanni Leone, parte da Fenis ad Aosta e dal suo famoso maniero medievale e arriva a Curon Venosta, a Bolzano, mostrandone il campanile. Napoli compare tra le cartoline con l'agora di San Lorenzo Maggiore. Ci sono le isole di Capri, con via Cruppe di Ischia, Castello Aragonese. Tra le immagini anche Caserta con la fontana di Diana e a Teone, la villa dei misteri di Pompei e Ravello in costiera malfitana. Ogni fotografia riporta sul retro la storia dell'immagine scelta. Completano l'opera riflessioni e citazioni di personaggi storici antichi e contemporanei, come quella di Giuseppe Mazzini, la patria e la casa dell'uomo, non dello schiavo. O di Indro Montanelli, un popolo che ignora il proprio passato non saprà mai nulla del proprio presente. Per Osario Bianco si tratta di un viaggio affascinante e di un gioco molto educativo. In effetti sfogliando questo libro il gioco è che si costruisce la bandiera dell'Italia, che ci sono tantissimi aforismi di personaggi che hanno reso grande la nostra nazione, ci sono dei posti bellissimi. È un gioco, è un momento di cultura, è un modo per vivere l'unità d'Italia senza drammi ma con gioia.